Stamamma scrive creatura a scuola, ovviamente il bambino c'ha dei problemi e poi a scuola dice guardate ho bisogno del servizio navetto e dei pulmini che mi ha passato a piatti la mattina, il signor non si preoccupa che i pulmini c'hanno tutti i creatori, non mi preoccupa, la mattina fessa prima c'hanno discuto, le creatori fanno via a letto, le creatori hanno dei problemi, come vedete i pulmini e tanti vanno a dire, tanti vanno a dire, tanti vanno a dire. e poi a meno non lo so ferma, non lo vengono a dire, a mamma vabbè si vede che non lo hanno visto, non lo hanno visto, poi io ne ero appena nata ho fatto un creatore che farò via a letto, solo visto come venire i pulmini e tenti ma, e ti, che scuola, che... ehi tu mi hai ricevuto che tu scornacchiata che porto bucina e non pigli a figlio un attimo signor che lo chiamo? che hanno chiamato la fissa se presenti io ehi perché tutto il mattino tu non pigli a figlio? ehi che mattino? ehi